L'amore crea, l'amore crea e vince sulla morte. Oggi è il 14 di agosto e si commemora il martirio di Padre Maria Massimiliano Colbe. Figura a me molto cara, devo dire, ma credo a tutti voi, molti di voi magari non sanno chi è. Allora, se per potete, vorrei dire due parole, dedicare due parole a questo grande e straordinario, coraggiosissimo polacco. Allora, si tratta di Raimund Colbe, questo è il nome, diciamo, di nascita, di colui che poi assumerà il nome di Maria, Massimiliano Maria Colbe. Perché? Ma perché egli fu segnato dalla più tenera età, si dice, intorno ai dieci anni, egli vide l'apparizione di Nostra Signora. E questo lo legò tutta la vita alla sua vera occupazione, che era quella di consacrarsi al cielo. Va bene? In questo caso, in modo speciale, proprio a Maria. Ma andiamo per gradi. Allora, lui è un bambino, un bambino che vive in una Polonia assolutamente difficile, una Polonia assediata, una Polonia in cui si svilupperanno poi, dopo, successivamente, anche delle situazioni di gravità assoluta, come sono l'invasione nazista e le conseguenti deportazioni. Degli ebrei? No, non soltanto. Pochi sanno che furono deportati moltissimi preti. Praticamente tutti i parloci polacchi hanno trovato poi la deportazione e anche la morte ad Auschwitz. Non dimentichiamo che Auschwitz è in Polonia e si chiama in realtà Ausbiesin. Questo Auschwitz è il nome, passato la storia, ma è il nome tedesco. Allora, che cos'è che succede? Innanzitutto, lui, pensate, si consacra a prete in Italia, a Roma. A Roma farà la sua prima messa, va bene? Quindi lui parlava molto bene l'italiano. Poi sarà un grande viaggiatore, un grande evangelizzatore. Poi arrivò fino in Giappone per portare il Vangelo, proprio nella città di Nagasaki, poco prima di essere massacrata dalle bombe americane. Ecco, padre Massimiliano Colbe era molto attento anche all'evolversi della comunicazione e quindi partecipò attivamente non soltanto alla stampa, quindi era in fondo un'abile penna e scriveva in diverse lingue su un giornale che aveva dei tirature straordinarie, più di un milione di copie e che più o meno aveva il nome di città di Maria, ecco in polacco, nome impronunciabile, non ricorderò mai. Fondò con lo stesso nome anche degli importanti monasteri, ma lui si occupò anche di radio, e questo è molto importante. Si occupò di radio, divenne radioamatore, con una sigla, un acronimo, ed è per questo che oggi, santificato da Giovanni Paolo II nel 1982, viene considerato il patrono dei radiomatori. Quindi si occupò anche di radio e faceva evangelizzazione anche alla radio. Ma la vicenda di padre Massimiliano Colbe, diciamo strucca strucca come si dice in Veneto, è tutta incentrata su quando viene deportato e internato nel campo appunto di Auschwitz. E lì viene assegnato lavori molto umili come per esempio il trasporto dei cadaveri dei suoi stessi fratelli che venivano trucidati dai nazisti. Ma che cos'è che accade? Accade che un giorno d'estate del 1941 scappa un prigioniero, un ebreo probabilmente scappa, e per appresaglia i nazisti ne prendono dieci e li condannano a morte. A quale morte? Una morte terribile, tremenda, che è quella del supplizio della fame. Infatti questa morte prevedeva che venissero internati in una specie di cappannone e lasciati lì, nella totale inedia, quindi senza poter né mangiare né bere. Morivano tutti. E che cosa ha fatto? A un certo punto questi dieci condannati presi a caso, uno di loro piange a dirotto e dice sono un papà, sono un padre, i miei figli mi attendono a casa e piange, piange, piange. E padre Maria Massimiliano Colbe, che era intento ai suoi lavori e non era tra i condannati, si offre al posto di quel padre. E in un modo abbastanza strano, ecco che anche questo è un po' del prodigioso, il nazista, il male, accetta la sostituzione. Di solito non veniva accettata perché venivano tollerati atti di solidarietà umana. e quindi viene accettata e viene messo lui al posto di questo padre, che poi lo ringrazierà per tutta la sua vita, eccetera, eccetera, e costituirà anche una delle eroiche virtù che lo renderanno prima beato nel 71 e poi santo nell'82. Allora, quindi fa parte di quella compagnia di condannati a morte. Viene rinchiuso dentro questo capannone, lasciato lì per 15 giorni. Dopo 15 giorni aprono le porte i nazisti e vedono che sono morti tutti di fame. Tranne quattro. Ci sono sempre in ogni storia dei sopravvissuti. Come ben sappiamo, tra questi quattro c'era anche padre Maria Massimiliano Colbe, che nel frattempo aveva fatto messe, proibitissime in quel periodo, e lo colsero che cantava inni lodi alla Madonna, a Maria. Era il 14 di agosto, vigilia dell'assunzione di Maria, per dormizio virginis al cielo, che accade appunto per tradizione cattolica il 15 di agosto di ogni anno. Pensate, la coincidenza è incredibile. Allora, non sopportandolo più, e soprattutto per il fatto che non voleva morire, nonostante non mangiasse e non bevesse da 15 giorni, quindi una forza misteriosa, una forza probabilmente che il male al male infastidisce, che sarebbe la forza dello spirito, e mi viene in mente la Maria di Newman, che visse per molti anni, dicono 30 anni, soltanto con una particola al giorno. Quindi lo spirito, la spiritualità, al di là del fatto semplicemente della nostra religione, ma la spiritualità è potentissima, e ha livelli di potenza ineluttabili per il male. Che cosa fanno? Decidono di uccidere questi quattro con l'acido fenico. E così fanno. Quando viene preso il braccio di padre Maria Massimiliano Colbe, lui guarda il carnefice, questo infermiere nazista, che sta per fargli l'iniezione, e dice le famose parole importanti, che poi vengono ricordate, come la frase della palma del martirio di padre Maria Massimiliano. Maria Massimiliano Colbe, e che servono per tutti e noi, per superare quei momenti di vigliaccheria, e guardarlo come il santo del coraggio, perché in fondo questo è lui. E lui dice, guarda l'infermiere nazista, e dice, tu stai sbagliando, perché l'odio perde sempre, è l'amore che crea. E così muore, muore punturato, muore con un farmaco letale, il 14 di agosto del 1941, e noi oggi lo ricordiamo.